la settima luna fa parte diciamo della serie dei canti del male che calmester ha iniziato a pubblicare col romanzo l'île d'esame quindi segue in qualche modo l'evoluzione del rapporto che si è venuto a creare tra le due spettrici eva croce e mara rice ma al contempo nell'illusion du mal era entrato anche un nuovo personaggio il vice questore e criminologo vito strega quindi la settima luna in realtà è come se fosse esattamente un sequel dell'illusion du mal può essere letto in realtà indipendentemente dagli altri romanzi però al contempo rappresenta un sequel e questa volta il link è molto diretto anche al primo romanzo della serie l'illusion perché sulle rive del ticino in lombardia viene trovato il cadavere di una ragazza che sembra stata uccisa con le stesse modalità degli omicidi avvenuti nell'illusion quindi una ragazza nuda trovata sulla sul letto del fiume con le mani legate dietro la schiena prona in una posizione quasi di preghiera ma soprattutto col volto cerato da una maschera tipica del carnevale sardo quindi sembra esattamente la replica dell'omicidio di dolore smorgia nel romanzo l'illusion il problema è che siamo lontani migliaia migliaia di chilometri dall'isola dalla sardegna siamo letteralmente nel continente nella terraferma quindi poliziotti che intervengono sulla scena chiamano subito in sardegna e la croce mara rice per dire qualche un mistero c'è qualcosa di strano o avete messo in carcere la persona sbagliata oppure qua c'è un intrigo che non riusciamo a capire non riusciamo a capire quali possano essere le condizioni tra questo omicidio e la sardegna quindi le due poliziotte aiutate da abito strega corrono in lombardia per cercare di capire cosa sta accadendo se si tratta di un copycat killer se c'è un mistero più ampio dietro dietro questo omicidio anche perché l'omicidio è avvenuto in una città molto particolare in italia che si chiama garlasco che è famosa perché storicamente è avvenuto intorno agli anni 2000 un delitto molto cruento molto famoso il delitto di chiara poci quindi potrebbero esserci delle corrispondenze delle similarità con quel delitto sì io credo che in realtà ci siano due modi di fare la serialità letteraria il primo modo è un po più tradizionale quello per capirci di agatha christi o di simenon quindi avere sempre lo stesso personaggio bene o male la stessa città o gli stessi ambienti un po di comprimari che sono sempre uguali personaggio non evolve sempre uguale un po se stesso cambiano i casi che segue ma la struttura del romanzo le abitudini del personaggio l'ambiente intorno a lui è sempre lo stesso e questo modello di serialità anche il più complesso da scrivere perché è difficile essere originali in una struttura così blindata così chiusa il mio modello modello diverso e lo chiamo un po più modello marvel come i fumetti perché coinvolge un universo letterario dove i personaggi entrano ed escono nella serie alcuni alcuni ci stanno per un po alcuni diventano protagonisti e magari nel romanzo dopo sono personaggi secondari questo mi permette intanto di cambiare le location quindi di spostare i vari personaggi in tutta italia e di avere un certo dinamismo all'interno della serie che mi permette in primis di non annoiarmi ma e quindi se io non mi annoio diciamo che c'è una buona percentuale che neppure i lettori si annoieranno quindi è un po più come posso dire complessa forse come forma di serialità però sicuramente regala più colpi di scena più più incertezza e quindi tiene anche il lettore un po sulle spine mamma sabò è stato un esperimento di scrittura collettiva di un gruppo di autori che si sono riuniti e hanno deciso di utilizzare le armi dell'investigato del giornalismo investigativo applicandole alla fiction per raccontare dei scrivere dei romanzi inchiesta quindi denunciare alcune aspetti sociali alcune problematiche legate al territorio con la chiave del giornalismo d'inchiesta ma trasfigurando il tutto in forma di romanzo eravamo in dieci abbiamo scritto un romanzo che è stato molto importante per la sardegna si intitolava perdaste vogu ed era un romanzo che denunciava l'inquinamento bellico attorno a un poligono militare poligono di perdaste vogu per l'appunto poi negli anni ci sono stati altri esperimenti laterali e sicuramente è stata un'esperienza molto significativa per me molto importante che mi ha che mi ha aiutato a capire le armi e il potere anche della letteratura utilizzata in chiave sociale diciamo che non so in francia però in italia gli scrittori di polar si prendono un po troppo sul serio sembra quasi che che stiano salvando delle vite ma quando nessuno operazioni a cuore aperto nessuno salva nessuno siamo solo scrittori siamo artigiani della parola quindi era un po un modo per prenderci in giro per ironizzare sul fatto che effettivamente il mio mestiere io mi sveglio alla mattina mi devo inventare modi per uccidere le persone ed è un qualcosa di strano qualcosa di bizzarro però il mio mestiere le persone amano questo tipo di storia e quindi era un modo per il primo ironizzare anche perché quando sono in fila al supermercato si chiacchierà con altri clienti le persone mi chiedono che mestiere fai sempre strano dire sono scrittore di crime sono uno scrittore di polar perché le persone sorridono dicono quindi tu uccidi la persona vorresti ucciderle anche nella vita reale ci sono tutta una serie di battute attorno a questo mestiere quindi volevo essere il primo a sdoganare questo tipo di pregiudizi arriverci un po sopra